bentornati su espero channel oggi parliamo ancora di video verticali oggi vediamo una situazione in cui abbiamo un video che è stato montato in orizzontale per una distribuzione tradizionale e poi deve essere adattato per i social se abbiamo un soggetto umano se non è eccessivamente stretto una possibilità è quella di fare clic destro e utilizzare la funzione automatica autoreframe sequence questa funzionalità a seconda di quello che noi scegliamo come formato andrà ad applicare un effetto l'autoreframe che utilizza l'intelligenza artificiale per cercare di centrare il soggetto all'interno dell'inquadratura ovviamente a seconda che ci sia un soggetto umano o come in questo caso una statua un decoro potrebbe funzionare o non funzionare quindi nel momento in cui noi andiamo a fare una operazione di questo tipo verifichiamo per verificare se il movimento è corretto ci basta selezionare la clip e selezionare l'effetto autoreframe e noi vediamo se e quanto si muove l'elemento quindi in questo caso per esempio vediamo che sta facendo un errore perché lo trasla e quindi lo possiamo spegnere per tenere inquadrata la statua in altre situazioni invece dove c'è un movimento verticale può funzionare e quindi teniamo questo tipo di effetto questo vuol dire che quando noi andiamo in export avremo un export per un formato verticale in questo caso un quattro quinti per instagram avremmo potuto scegliere il 9 sedicesimi e avere un formato verticale di differente proporzione quindi questo ci permette rapidamente da un montaggio già fatto cercare di estrapolare un montaggio adatto ai social direttamente da un montaggio adatto ai social direttamente da un montaggio adatto ai social